Stavo pensando agli orsacchiotti con l'elmetto che l'Europa ha mandato a far paura a Putin e Putin fa uuuuh, che paura Cosa mi chiamate sempre a spiegare scenari di guerra? Se poi non fate mai guerra Quando in vostro paese annunciate Sanremo fate spot, no? Arriva Sanremo, arriva Sanremo E poi però lo fate davvero, questo cazzo di Sanremo Non è che la risolvete mettendo sanzioni ad Alassia